Pesaro è pronta a volare a Los Angeles nel nome di Luciano Pavarotti. Nel nome del maestro che di Pesaro è stato cittadino adottivo e che verrà onorato nella West Coast dove per l'occasione troverà un'occasione planetaria di promozione anche il brand della Capitale della Cultura 2024. La data cerchata in rosso è quella del 24 agosto quando sulla Walk of Fame di Hollywood, ovvero la strada delle stelle californiane, verrà posta anche la stella del maestro Pavarotti alla presenza del città di Modena e di Pesaro. L'idea nasce geniale da Paolo Rossipisu che a Los Angeles per il lavoro su linea Vermuller notando l'assenza di una stella dedicata a Pavarotti in a Walk of Fame un paio di anni fa ormai si pensa a questa idea mettendo insieme innanzitutto ovviamente il pensiero e le volontà delle famiglie e naturalmente la Camera di Commercio di Los Angeles che poi è protagonista di questa operazione e anche gli enti locali in particolar modo il comune di Pesaro, la città di Pesaro, la città di Modena e l'Emilia Romagna come regione. Pesaro naturalmente è la seconda città di Pavarotti per la casa estiva dove non era solamente una casa di vacanze e di relax e di riposo ma era il luogo della produzione dell'elaborazione dei grandi progetti che poi avevano luogo in inverno, ai Tenori, a Sting, a Giovanotti, Zucchero, insomma Bono, tutti sono circuitati per quella casa anche per programmare le cose da fare i pesaresi ne hanno un ricordo ancora indelebile anche perché poi Luciano non si incontrava tante occasioni anche all'alimentario fondamentalmente in edicola insomma è una figura che si è esibita tante volte per la città anche gratuitamente ricordiamo l'apertura, la riapertura del Teatro Rossini l'apertura dell'allora BPA Palace. Tanti fili che legano alla nostra città e quindi un tributo di gratitudine ma anche un ulteriore elemento di promozione che Pavarotti indirettamente e direttamente farà per Pesaro perché per noi sarà l'occasione di parlare di Rossino Parafestival, di parlare di Capitale Italiano della Cultura, all'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, al Warner Theater di Los Angeles, quindi insomma avrà molti elementi collaterali, addirittura figure di Alessandro Del Piero, giocatore ma anche imprenditore a Los Angeles, sia appassionato della vicenda e sarà presente con Alessandro Del Piero, quindi capite insomma l'eco mondiale che avrà questa cosa e poter avere Pesaro all'interno di questo evento sicuramente sarà un grandissimo lancio mediatico comunicativo ma diciamo su una solida base culturale. Sarà una tre giorni americana in cui avrà una grande vetrina promozionale il Rossini Opera Festival la cui storia ha tanti fili annodati alla storia di Luciano Pavarotti. Pavarotti è stato protagonista del festival nel 1986 con un concerto in una piazza incredibilmente gremita di oltre 7.000 persone in cui era stato allestito un grande teatro che la stampa dell'epoca definì come il più grande teatro all'aperto del territorio e probabilmente aveva ragione. Pavarotti quindi inaugurò il più grande teatro all'aperto, poi aveva già inaugurato il teatro Rossini qualche anno dopo inaugurerà l'attuale Vitri Frigo Arena che ospita ancora oggi gli spettacoli del Rossini Opera Festival, quindi un legame che non si è mai interrotto e che con questa iniziativa abbiamo intenzione di rinsaldare proprio riportando il festival fisicamente negli Stati Uniti dove risiede una delle più importanti comunità di nostri spettatori, dove c'è un'associazione di sostenitori Friends of Rock, con i quali abbiamo intenzione di riallacciare i rapporti dopo due anni che a causa pandemia è stato più difficile mantenere i contatti. Abbiamo portato spesso iniziative su una costa orientale, questa è un'occasione per andare anche nella costa occidentale e quindi verso la California. La cerimonia della stella nella World of Fame diventerà anche un evento per la città di Pesaro, trasmesso in diretta alle 20.30 del 24 agosto. Giocando sul fuso orario che ci permette una contemporaneità con le 20.30, allestiremo, stiamo ancora decidendo per motivi tecnici se in Piazza del Popolo o in Piazza della Libertà, però la cerimonia alle 20.30 del 24 di agosto potrà essere seguita in diretta dai pesaresi e ovviamente contorneremo la serata anche di altri momenti artistici e musicali per farlo diventare un momento memorabile, una vera festa per tutta Pesaro.